Buongiorno a tutti, sono Alessandro di Sofia Lox, una società che produce e commercializza un sistema di controllo accesso intelligente che consente agli smartphone di aprire le porte e ad altri smartphone di autorizzare da remoto lo smartphone di un'altra persona ad aprire una determinata porta, un determinato bar. Venite a sapere della call per Startup di eCube, abbiamo deciso di essere presenti a questo evento e abbiamo deciso di partecipare alla futura call, in quanto Estra risulta essere un potenziale cliente, un potenziale partner molto interessante. Ipotizziamo che ci sono delle sinergie nel futuro relativamente alla partecipazione di questa partecipazione. Avere l'opportunità di presentare davanti a una platea che ti mette da un certo punto di vista in difficoltà, ti fa domande, ti permette di raffinare l'idea imprenditoriale e in secondo luogo sicuramente il contributo economico per i possibili vincitori è di interesse in quanto aiuta lo sviluppo nei primi mesi e infine entrare a conoscenza con un partner industriale come Estra dei possibili casi d'uso e di applicazione del prodotto barra tecnologia di certo è un fattore fondamentale per chi sta avviando il nuovo progetto imprenditoriale.